30 aziende dalle 5 province campane per far assaggiare, degustare, conoscere. Vitigno Italia, il salone dei vini e dei territori viticoli italiani, ha sparso i suoi profumi di vino e di cibo nelle sale e negli spazi di Castel dell'Ovo, dove napoletani e turisti hanno potuto assaporare i prodotti del territorio campano. Giunto all'undicesima edizione, l'evento è stato realizzato col patrocinio dell'Expo. È una realtà che da anni attraversa la nostra città, noi ci crediamo, la sosteniamo, abbiamo voluto fortemente che si continuasse a fare a Castel dell'Ovo, dimostrazione che qui abbiamo le eccellenze dei vitigni del nostro paese ed anche tanto della nostra terra, della nostra Campania, della nostra Napoli. Questo significa qualità, eccellenze e anche tanto turismo che ruota attorno a queste iniziative.